Il GIP del Tribunale di Pordenone si è riservato alla decisione relativamente alla convalida dell'arresto di Giuseppe Forciniti che nella notte fra mercoledì e ieri ha ucciso a Roveredo in Piano la compagna Aurelia Laurenti. Nel corso dell'udienza il difensore Ernesto De Toni non si è opposto alla convalida, ne ha fatto istanza per i domiciliari. Nelle prossime ore il giudice si esprimerà sulla convalida, l'accusa rimane quella di omicidio pluri e aggravato. Forciniti, apparso confuso, provato e con frequenti vuoti di memoria, ha ribadito la versione fornita nel primo interrogatorio. Sostiene di aver colpito la compagna una sola volta e si è avvalso anche della facoltà di non rispondere. Faticava infatti a collocare temporalmente i particolari di quella che ha sostenuto essere una colluttazione. Ha anche confermato che la compagna Aurelia nei suoi confronti era diventata spesso aggressiva, circostanza che secondo la sua versione resa precedentemente si era verificata anche la notte dell'uccisione. Intanto i figli della coppia di otto e tre anni si trovano temporaneamente nell'abitazione dei nonni materni. Il loro avvocato ha chiarito che chiederà al tribunale dei minori di Trieste che la tutela dei due bimbi sia affidata a loro. I genitori del presunto assassino invece sono arrivati nella tarda serata di ieri in Friuli dalla Calabria e sono ospitati da alcuni parenti della stessa famiglia della vittima. Nel frattempo le due comunità di San Quirino e Roveredo, ancora profondamente scosse per la vicenda, hanno lanciato una raccolta fondi per i figli della coppia. Fin da ieri poi fuori dall'abitazione sono stati deposti dei mazzi di fiori per onorare la memoria della vittima e oggi alcune mani anonime hanno lasciato un ricordo floreale anche sulla panchina rossa di San Quirino installata alcuni anni fa per ricordare le vittime di femminicidio.